Cucina immangiabile parte 1 Io non so cosa sto facendo eh Io non so cosa sto facendo Spugge l'uovo Ma che si fa? Tu butta questo letto Oh che schifo No sono spuncato Inviato Inviato ancora Si è in calma Fa vedere come è diventato Abbiamo aggiunto del ketchup Finalmente è diventato tipo Nutella Ora mettiamo No no E ora buttiamo questa sgopa dentro Oh non c'è è tritto Un uomo cos'è? Sì perchè invece stica Non si risce Ma come a caso Magari facciamo una leccita famosa Eh veramente Dopo l'assaggiamo dai Questo Questo Un uovo E poi Ma no C'è il ketchup Tutta la cazzata Bebè? Non si ridurisce Perché il ketchup piccato Si ridurisce con l'uovo Il ketchup è mischiato Hai fatto la cazzata Devi girare coglione Hai fatto la cazzata Non mi è cotta Non lo sapevo Ma metti il ketchup Ma guarda adesso c'è un colore più bello Gira po' cazzo Gira gira cazzo Scuola un po' dai Scuola 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 Nooo Sa gira cazzo Gira cazzo